Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, sono stato assente per un paio di giorni, sono come potete vedere forse da questo panorama, qui è dietro favoloso, a Tokyo. Allora, che cosa sta succedendo sui giornali italiani, visto da qua da lontano, dove i giornali si occupano di salario minimo, anche qua in Giappone il tema è molto attuale, anche se il salario minimo qua già c'è, ma è diviso, pensate un po' voi, per le 47 province. Voglio vedere in Italia come i grillini vorrebbero e come possono dividere il salario minimo tra Tokyo e la Campania, o tra Milano e Bari. Vabbè, ma questo è un altro tema, così come i giornali stranieri qua si occupano tutti quanti del taglio dei tassi negli Stati Uniti, ma anche delle grandi questioni commerciali di cui parleremo anche noi. Però andiamo subito nel dunque su quello che è successo ieri. La cosa fondamentale è che è arrivato un marziano a Roma, cioè la baronessa Ursula, la nuova Presidente della Commissione Europea, per nove voti, di cui una gran parte vengono proprio dal Premier italiano, Conte, rappresentante del Movimento 5 Stelle, la va a trovare Ursula Conte e cercano di mettersi d'accordo su un po' di questioncelle. Il tema fondamentale, come è sintetizzato da due giornali piuttosto critici nei confronti della Lega, cioè il messaggero, ma non in maniera, diciamo, messaggero, come possiamo dire, preconcetta, Repubblica decisamente preconcetta, è paralisi sul Commissario Europeo, quello che dovremmo decidere entro il 31 di agosto. Per il messaggero c'è una paralisi totale, per invece l'Europa-Italia, falsa partenza. Chissà quante partenze false ci sono state per Repubblica, e questa ne è un'altra prova, secondo il quotidiano diretto da Carlo Verdelli. Ieri, in realtà però, Salvini avrebbe proposto una terna di nomi, che poi vedremo e racconteremo essere più di tre, e Repubblica la terna la definisce vaga. Cosa voglio dire una terna vaga? Lo so soltanto il cielo. Andando a vedere un po' i giornali qual è questa terna, ci sarebbero i ministri centinaio dell'agricoltura, il ministro Fontana, che è dei rapporti col Parlamento Europeo, il ministro Buongiorno, e qualcuno dice anche il ministro Garavaglia, il sottosegretario Garavaglia, che peraltro è l'unico citato dal fatto quotidiano da Stefano Lepri, che dice un'altra cosa, su cui si interrogano tutti quanti i giornali, sul fatto che forse avremmo poi perso il portafoglio e la concorrenza, e avremmo preso un portafoglio o al commercio o all'industria, ed è l'altro retroscene della Commissione Europea. Vi segnalo una cosa, recentemente sono andato al convegno, una grande assemblea degli armatori, guidata da Stefano Messina, e lì era stato invitato Enrico Letta, che è considerato un super-europeista, un uomo dell'intelligenza, non certo lighista d'Europa, ed Enrico Letta ha detto lasciatela perdere la concorrenza, serve a poco, molto meglio i trasporti, dice Enrico Letta, perché il commissario alla concorrenza è un commissario bandiera, come lo era quello agli affari esteri con la Mogherini, l'alto rappresentante della politica estera. A noi ci servono dossier importanti che riguardano l'Italia, cosa completamente diversa rispetto a quella che dice Lepri oggi, sulla stampa, scusatemi, sul fatto, come tanti altri giornali che non discutono che se perdiamo la concorrenza è una grande sconfitta per l'Italia. Detto questo, quindi la seconda notizia è invece che la Ursula avrebbe detto a Conte che si farà qualche cosa e si cambierà qualche cosa nelle politiche dell'immigrazione europea. Si tratta ovviamente solo di dichiarazioni, una che ha preso soltanto 9 voti in più, mi diverte capire come riuscirà ad avere la forza per fare una politica di immigrazione diversa rispetto ai suoi dante causa, ma la cosa più interessante è che in un'intervista alla stampa Salvini dà un giudizio completamente diverso a quello che gli attribuiscono tutti gli altri giornali su questa vista di Ursula e dice che se riusciamo ad avere un accordo con lei sulla spartizione dei migranti io sono abbastanza d'accordo. sostanzialmente le parole della Ursula sono state giudicate positivamente secondo le prime interpretazioni dello stesso Salvini, questo a leggere Salvini sulla stampa. Il fatto? Si cucina nel frattempo la buongiorno che dovrebbe essere una di quelle candidate alla Commissione Europea, però la vera cosa per il quale il fatto se la cucina è che la buongiorno è la vita amica, nemica di buona fede nella riforma inutile della giustizia che stanno provando a fare e dice una cosa totalmente per fondeste sindacale, cioè che lei i sindacati li avrebbe convocati una sola volta, li avrebbe ascoltati sotto solo 7 minuti e non starebbe facendo nulla alla funzione pubblica. Allora, che lei non stia facendo nulla alla funzione pubblica mi sembra probabilmente molto vero, soltanto 4-5 annunci di una che in realtà da avvocato in poi sembra che sia stata soltanto brava a cambiare partito per riuscire a portarsi un ruolo più forte, più importante di quello che lei si metta, quindi è probabilmente molto probabile che lei riesca a diventare anche commissaria europea, ma il fatto che noi ci si debba fidare del giudizio sulla buongiorno da parte di quello che pensano alcuni sindacalisti della triplice riguardo alla gestione della funzione pubblica, ho i miei dubbi. Due questioni che riguardano i partiti, Libero che se la prende con Forza Italia e dice Silvio stritolato da Matteo con la Lega che sta al 39% e Forza Italia sotto al 7%, probabilmente i sondaggi sono tutti quanti concordi nell'idea che Forza Italia è praticamente diventata il partito terzo del centrodestra, dietro addirittura anche alla Meloni di Fratelli d'Italia, devo dire che non si aiutano da solo questi di Forza Italia, con tutto sto casino che hanno fatto, Toti entra e esce, poi la Mara Carfagna che secondo Repubblica sarebbe stata fuori dal cerchio magico, la Carfagna che secondo alcuni giornali sarebbe in Sardegna perché spera di tornare e farsi vedere da Silvio, ma Silvio in realtà considera la Carfagna una che si è montata la testa e poi fa il direttorio, ma secondo voi la gente potrà mai votare Forza Italia se l'unica cosa che riusciamo a sapere di Forza Italia è questa roba qua? Secondo me assolutamente no, Travaglio prende in giro Toti che esce, non esce, tutta Forza Italia e il foglio di Cerasa invece ha un'idea un po' diversa, troviamo una destra alternativa rispetto a quella di Salvini, il paese ha molto bisogno di destra, ma una destra diversa rispetto a quella di Salvini che non è una destra truce, io però a Claudio Cerasa risponderei caro Claudio Cerasa la destra in Italia è sempre truce, è forse il foglio che oggi la considera truce rispetto di ieri, ma la destra è sempre stata considerata una schifezza, come consideravano Berlusconi il suo isolamento in Europa, la sua incapacità di governare, il suo unfit di governare, il foglio all'epoca lo difendeva, ma voglio dire c'è un tic per cui chiunque sia a destra non piace ai giornali, ai premi laterali, alla minchia, alla roba che conta, all'intelligenza, quindi io non direi che oggi il problema è che bisogna trovare una destra potabile, diversa rispetto a quella di Salvini che può piacere o non piacere, il problema è vero che in Italia la destra quando riesce ad avere un ruolo gli fanno sempre un mazzo così, chiaro questo secondo me è il vero principio di un paese che non è abituato a pensare che possa governare qualcuno che non sia un grande pastrullione democratico socialista. Il PD poi, diciamo, se la destra di Forza Italia sta male, il PD certo non ride, due, due, due petizioni sono riusciti a fare per le dimissioni di Salvini, cioè hanno fatto una petizione quelli di Renzi attraverso la sua associazione, non si capisce perché non lo fa col partito, e poi si è capito che l'ha fatto anche il partito, Zingaretti fa una petizione per le dimissioni di Salvini e lo fa alla festa dell'unità, ma sono veramente dei fenomeni, dei fenomeni, è una cosa incredibile come riescano a dividersi su tutti. Ricolfi oggi fa il pezzo più divertente e più importante dei giornali, secondo me l'unico che vale la pena è il prezzo pagato per i giornali, perché oggi fa un pezzo su cui il titolo secondo me non giustifica il ragionamento che non è tra i più sofisticati, ma comunque è un po' interessante, gli effetti aberranti dell'eccesso di civiltà, ed è riferito al fatto che Breivik, ve lo ricordate il non nazista che autò e ha ucciso il 77 ragazzi soltanto per il fatto di essere in quell'isola, i socialdemocratici, che si lamentò per il suo trattamento in prigione, che peraltro aveva una prigione favolosa in Norvegia che i nostri prigionieri si sognano, e ebbe ragione da quel governo, e questo ricorda, dice Ricolfi, anche se in modo diverso, la questione della benda all'americano che è stato tradotto in carcere in Italia dopo aver ucciso un carabiniere, ma di che stiamo parlando, dice Ricolfi, non lo dico io, non lo dice Salvini, non lo dicono i populisti, non lo dice la destra reazionaria, lo dice Ricolfi, toc toc, avete capito? Lo dice Ricolfi, che non mi sembra uno della destra reazionaria, certo, gli effetti aberranti dell'eccesso della civiltà forse non è il titolo più giusto, il titolo più giusto sarebbe la proporzionalità e il nostro buonsenso, tra uno che ammazza e una benda tenuta per 5 minuti dopo un interrogatorio che è stato videoregistrato, beh insomma ce ne passa, così come il dibattito all'interno del PD, che oggi mi sembra il messaggero, con un, come si dice, un bibì, un bibò, tra Giacchetti e Fiano, perché Scalfarotto è andato a trovare l'americano, Zingaretti ha detto non doveva dare a trovare l'americano in carcere a Re Bibbia perché si tratta di inopportuno politicamente, Giacchetti difende la visita in carcere di Scalfarotto e Fiano dice questa è una visita in carcere che ci fa perdere voti sostanzialmente, obiettivamente io penso in maniera molto banale che abbia ragione il radicale Giacchetti, nel senso che hanno ragione sia Ricolfi sia Giacchetti, la questione della benda vale zero e quindi io sono d'accordo con Ricolfi, non me ne fotte nulla, io però rivendico di essere liberale e garantista e quindi che se un politico ha il diritto di ispezionare i carcerati lo può fare anche nei confronti dell'americano, non c'è nessuna inopportunità politica, c'è esattamente quello che dice Giacchetti, proprio in questo momento conviene vedere che cosa sta succedendo in carcere con l'americano, perché in carcere si deve rimanere e per quanto mi riguarda uno che ammazza un carabinale ci deve rimanere all'ergastolo, ma che io controllo come viene tenuto all'ergastolo un carcerato è cosa buona e giusta, poi dopo farlo uscire dopo dieci anni come avviene in Italia è una minchiata, ma le due cose non sono in contrasto, sono esattamente nella stessa linea, liberale, garantista, ma anche di certezza delle pene, no? Certezza delle pene, perché se le pene non sono certe non c'è garantismo, non c'è libertà, non c'è difesa dei più deboli. Ultime due cose riguardano la TAV, il fatto contro la TAV, inutile che ve la dico la solita roba, venerdì nero in borsa, titolo di solo 24 ore, perché obiettivamente qui le questioni di Trump stanno iniziando veramente a diventare pesanti, perché i dazi nei confronti della Cina sono annunciati, certo non sono ancora state fatti, però hanno danneggiato i settori che potrebbero essere danneggiati dai dazi, cioè l'industria e l'auto, meno le utility e ovviamente i settori immobiliari. Il rischio dell'escalation è forte, enorme e come notava bene oggi il Sole 24 Ore, anche la Corporate America ha paura di questi dazi, perché potrebbero far male alle stesse industrie americane. Vespa, oggi sul quotidiano nazionale, ci ricordo una cosa banale, i politici si occupassero di quello, come diceva Berlusconi, tenetelo davanti alla porta del vostro bagno, così ve lo ricordate ogni volta che voi andate al bagno, e cioè il fatto che nel 2007 il PIL italiano era a 100 e oggi è ritornato al 96, nel 97 il PIL spagnolo era a 100 e oggi è a 100, quello spagnolo, quello francese era a 100 e oggi è a 115, cioè siamo il fanalino di coda nella crescita europea, non abbiamo ancora recuperato il terreno perso dopo la crisi, su questo veramente varrebbe la pena di approfondire, non tanto su tutte le altre minchiate di cui il governo si occupa in queste ore. Ciao da Tokyo.